Lo so, è capitato sicuramente anche a te di avere un blocco e non sapere più cosa fotografare o riprendere. Ma per quanto riguarda la fotografia, oggi, qui, ti do un consiglio, o meglio, ti mostro un accessorio per rendere creative le tue fotografie. Qualche giorno fa, su Instagram, nelle storie, vi ho chiesto se conoscevate questo accessorio. Questo accessorio ha un nome, è una lesbole, sostanzialmente una sfera di vetro. Potrebbe sembrare di cristallo, ma non predice il futuro. A cosa serve questa sfera? Questa sfera, sostanzialmente, serve a creare delle foto particolari. In effetti, ho qui queste fotografie mandate insieme alla sfera, che ringrazio il lesbo. Abbiamo quindi la possibilità di creare delle foto davvero particolari. Infatti, avvicinando la sfera al nostro obiettivo, avremo un'immagine totalmente distorta e all'interno troveremo la scena che abbiamo davanti in modo capomotto. Quindi, puoi sta al fotografo avere un po' di idee su come utilizzarla, ma sostanzialmente si usa così. Non è indicata soprattutto per i video, perché non ne vedo il massimo utilizzo. Funziona con smartphone, ho provato, e con lenti di mirrorless o reflex. Sconsiglio con la GoPro, perché non è lo stesso effetto. Non puntatela mai verso il sole, perché mi sono praticamente ustionato. Ero in montagna, o per scattare una foto, ma il sole è arrivato prima dello scatto. E mi sono ustionato con la mano. Niente di che, però fa male. Vi invito sul mio profilo Instagram a vedere le foto fatte con questa sfera. Vi lascio i link del sito internet Lesboard. Non sono più attivi su Instagram e non so perché. In alternativa vi metto anche tra i link dei venditori Amazon che hanno queste stesse sfere, molto simili. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie.